diciamo che la volontà di tornare c'è sempre insomma fa sempre piacere e poi la possibilità di condividere con gli studenti quindi con quello che ero io fino a pochi anni fa penso sia un valore aggiunto perché io da studentessa avrei apprezzato molto questo tipo di iniziative quindi insomma spero di poter dare il mio contributo sicuramente perché comunque l'apertura mentale che secondo me danno da e danno determinati corsi di laurea come per esempio quello che ho fatto io quindi la magistrale in economia direzione aziendale permette veramente di conoscere quello che è un'azienda o comunque insomma a pezzettini comunque di entrare nel mondo aziendale e quindi poi di essere preparati anche ad affrontare il mondo del lavoro penso sia un'ottima ottima scelta perché date la possibilità agli studenti di iniziare già a masticare quello che è poi il lavoro quotidiano e il modo di esprimersi quotidiano io uso l'inglese tutti i giorni svolgo progetti con persone che non parlano italiano quindi sicuramente è un plus non da poco all'interno del percorso formativo e quindi universitario sicuramente la possibilità per esempio di svolgere l'erasmus quello sicuramente è stato fondamentale poi nel mondo del lavoro diciamo che tutti i giorni si fanno scelte che secondo me hanno delle conseguenze sul nostro percorso uscendo un po' dalla lezione in aula sicuramente anche tutte le testimonianze sia aziendali che comunque di persone che vengono a portare la propria esperienza sono utilissime perché ci si avvicina a quello che è il vero mondo del lavoro no e quindi non solo che non è solo o non è teoria ma è soprattutto un solo pratica allora io credo tantissimo e lo faccio tutti i giorni nel learning by doing per cui soprattutto nel tipo di lavoro che svolgo io è fondamentale tutti i giorni essere aperti ore che alzate e essere pronti a recepire tutti gli stimoli che il lavoro come un lavoro da consulente può dare in ogni caso poi comunque io per esempio ho svolto anche un master piuttosto che comunque percorsi formativi che anche la mia azienda propone bello e penso che forse ci possiamo mettere ancora di più nel senso che uno degli insegnamenti che mi sono portata a casa e mi è rimasto impresso è la leadership femminile e maschile e secondo me come leader femminile possiamo dare molto 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 cercando di essere insomma non solo manager ma leader più che altro noi ti ringraziamo tantissimo ti facciamo un in bocca al lupo e ci rivediamo presto grazie mille è stato un piacere